Praticamente io una volta c'avevo un avvocato, solo che poi è morto. Allora facevo nei sogni, lo incontravo con i viaggi astrali e ci domandavo cosa dovevo fare all'udienza, mi autodeterminavo, però avevo bisogno di un aiuto. Lui invece però, preso così, non so, dal mondo dei morti, dalla quotidianità di quella vita lì, mi dava i numeri dell'otto, solo che a me non servivano, io non capivo e li mettevo dentro nelle udienze. Allora, per fare l'udienza, per vincere la causa, ho preso una cartomante e lei, con i numeri dell'otto, capiva quello che è. Solo che poi la cartomante si è messa d'accordo con l'avvocato e mi hanno imbrogliato, cioè proprio il grande classico, capito, della cartomante. Alla fine lei ha messo quei numeri lì all'otto e ha vinto, ha vinto e si è comprata giudice. Così, adesso ce l'ha lì in casa, su un comodino, non era tanto alto, tipo quello di Andrè, no? Il giudice, quello della canzone. Ecco, come pezzo, mi sembra completo questo. Grazie. Grazie. Grazie.